Diavolo di un Pepper! Beh, Zan, con l'indizio del laccio, Pommi ha risolto il mistero. Prima di riacciuffare Pepper, però, gioco un po' con i nostri amici a casa. Giochiamo insieme! Bene, amici, tra questi tre, qual è la scarpa di Pepper Chaos di... Non lo so. Forza! Oltrepassiamo la porta dell'orso polare! Ben fatto! Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È un pesce palla! Incredibile! Hanno risolto il puzzle! È un polipo!